Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. C'è un po' di emozione nel presentare il nostro ospite, in realtà l'emozione non è tanto dal dialogo che abbiamo avuto in tanti anni quanto dal suo nuovo ruolo, allora saluto e ringrazio Renzo Minella per essere intervenuto nei nostri studi, buongiorno Renzo. Buongiorno Claudio. Allora l'emozione è questa, direttore generale Faloria Cristallo, quindi parliamo sempre di turismo, impianti risalite ma con dinamiche differenti rispetto al passato, allora posso dire raggiunta l'età pensionabile ma non ci si ferma, insomma un nuovo ruolo, anzi credo ancora più impegnativo. Una nuova sfida Renzo, quindi il tuo approccio a Cortina, com'è stato dopo tanti anni in Agordino e in Val di Fassa? Dopo oltre vent'anni appunto a Falcate, a Pasto San Pellegrino dove mi sono formato professionalmente in questo settore che mi ha appassionato fin da subito, giunta all'età pensionabile, pensavo di continuare con un rapporto di consulenza ma molto leggero, dopodiché mi è arrivata questa opportunità che la società Faloria Cristallo mi ha proposto come direttore generale di questa società con un piano strategico di investimento molto importante da qua ai prossimi anni e l'ho visto come una sfida, una sfida che mi dà delle forti motivazioni per continuare a lavorare anche dopo tanti anni di impegno perché insomma alla fine superati i 60 anni bisognerebbe cominciare a tirare un po' i remi in barca ma in realtà adesso stiamo remando ancora molto forte. Un'altra considerazione, Cortina è un mondo molto variegato dal punto di vista dell'impianto di risalita quindi c'è Faloria e Cristallo ma ci sono anche altre realtà quindi non è un unicum trovarsi, hai già chiaramente una grande esperienza anche come presidente passato dell'ANEF Veneto, il confrontarsi con gli altri impiantisti direttamente voglio dire nonostante questa tua come logico abitudine insomma. Sì è stato per me un enorme piacere l'accoglimento che ho avuto da parte dei miei colleghi ampezzani che comunque conosco e conoscevo molto bene per gli anni trascorsi come presidente dell'ANEF quindi ho sempre avuto interlocuzioni in particolare con i presidenti delle varie società e Marco Zardini che è il presidente del consorzio ci siamo sempre sentiti settimanalmente per le attività che svolgevamo all'interno dell'ANEF adesso faccio parte di quell'ambito e di quella squadra e devo dire che mi sto trovando bene assolutamente non dimenticando invece le opportunità che ho avuto di crescita date dalla società Impianti Falcade col Margherita con il presidente Mauro Mendrusco. Ecco Renzo prima di passare ai programmi quindi al piano strategico facciamo un passo indietro la stagione estiva come è andata per il vostro comprensorio scivistico in questo caso estivo? È stata una stagione interessante, io oggi quello che posso analizzare sono solo i numeri confrontati con gli anni precedenti per quanto riguarda Falora e Cristallo le due impianti di risalita aperte, la Funivia e la Seggiovia a Rio de Janeiro e Sonforca hanno lavorato bene, hanno avuto un incremento significativo di passaggi c'è stata una presenza di turismo internazionale molto valiegato tanti orientali, in particolare coreani, che hanno continuato giorno dopo giorno a salire sulle nostre cime e a visitare i fantastici paesaggi della Conca Pezzana. Sull'estate per quanto ci riguarda c'è ancora molto da fare e diciamo che nel piano strategico che poi ne parleremo ci sono degli interventi che porteranno dei benefici significativi anche durante la stagione estiva. Ci parlavi quindi di un estato soddisfacente, adesso prima di iniziare questa trasmissione dice che a Cortina c'è ancora molto movimento dal punto di vista turistico almeno pur essendo in fuori stagioni, chiaramente non i numeri dell'estate e allora pensare all'allungamento delle stagioni a Cortina è possibile Renzo anche di prolungare gli impianti, voglio dire anche in ottobre e di conseguenza anche tutto il mondo dell'ospitalità, è utopia oppure ci si può arrivare? Beh, allora abbiamo degli impianti tipo la Gassoi che chiude comunque a metà del mese di ottobre quindi è ancora aperto di fatto, quasi tutti gli impianti sono arrivati a fine settembre prima di chiudere, ma quello che è interessante è che sta avvenendo a Cortina ormai da qualche anno mi dicono, ma io lo sto toccando con mano, tanti alberghi che sono ancora aperti e pieni di turisti. Adesso Cortina si presenta anche con una presenza numerosa di lavoratori perché i tanti cantieri che stanno andando avanti anche in questa stagione portano comunque tanto movimento, tanta gente ma che si mescola in questa fase ancora con tanti turisti ripeto, turisti soprattutto ovviamente stranieri ma che arrivano dalle nostre città d'arte, in particolare Venezia anche giornalmente, ma una visita a Cortina se la fanno più che volentieri quindi di conseguenza questo fa sì che gli alberghi continuino a lavorare e anche i ristoranti ancora aperti sono sempre pieni. Tanti cantieri anche negli alberghi ma insomma questo è un prospettiva olimpica appunto è un altro discorso. Senti, veniamo un po' ai programmi ci dicevi un piano strategico mirato alle Olimpiadi il vostro obiettivo del piano strategico oltre oppure più a breve termine Renzi? Noi siamo proiettati al periodo post olimpico anche perché Falloria e Cristallo non sono interessati direttamente dalle gare olimpiche però siamo sempre in quell'area cerchiamo di, nel piano strategico ci sono dei interventi importanti a ristrutturazione del rifugio Falloria che speriamo poter presentare in occasione appunto della prossima stagione invernale della stagione 25-26 quindi la stagione olimpica dopodiché abbiamo interventi molto importanti in futuro da sostenere in particolare un lago di accumulo per l'innevamento che ne abbiamo tanto bisogno e una sostituzione di un impianto importante quindi un investimento anche sulla seggiovia Vitelli che è la seggiovia che performa maggiormente all'interno del nostro comprensorio e quindi è una sostituzione importante per quanto riguarda quella seggiovia e poi capire quale sarà il futuro dell'area Cristallo pensando anche a una soluzione per Stauñes che ormai è la vidonvia che è chiusa ormai da diversi anni cercare di ripristinare in qualche modo anche quell'area là per ritornare a dargli il valore che merita Certo Renzo l'innevamento è sempre più un elemento importante imprescindibile direi innevare le piste ci parlavi di un nuovo laghetto di accumulo nel minor tempo possibile e questa è un pochettino la sfida tecnologica del futuro insomma garantire agli scettori Le finestre di freddo sono sempre più rare e noi dobbiamo sfruttarle nel miglior modo possibile e quindi per essere pronti per quelle 3, 4, 5 giornate di freddo intenso che viviamo ormai ultimamente durante le nostre stagioni invernali bisogna avere una potenza di fuoco molto importante e significativa organizzazione quindi avere acqua avere macchine che producono e gatti che battono ovviamente che preparano le piste su questo anche durante la stagione estiva abbiamo potenziato abbiamo aggiunto ancora delle macchine dei generatori per essere pronti quando il freddo arriva la prossima stagione invernale la definiamo la stagione preolimpica cerchiamo comunque di presentarsi nel miglior modo possibile potenziando soprattutto i servizi cercando di essere performanti non tanto sulla preparazione delle piste che quella avviene ormai anno dopo anno o degli impianti ma su quelli che sono i servizi rivolti allo sciatore al nostro cliente e su questo stiamo cercando di prepararci bene a Rio Gere con il parcheggio che diventerà uno dei punti di arrocamento anche in periodo olimpico più interessanti perché fuori diciamo dalla bolla olimpica quindi anche per chi ci raggiunge dal lato di Auronzo, Misurina possono arrivare e trovare un parcheggio adeguato per poi da là partire e sciare sul nostro comprensorio quello che invece stiamo facendo come consorzio impianti di Cortina è il potenziamento dei servizi di trasporto interni a Cortina assieme al comune e agli albergatori per garantire un servizio puntuale potenziato degli schibus che si muoveranno durante la stagione invernale quindi cercare di offrire più servizi anche in un momento in cui i cantieri e le attività che si svolgono in preparazione olimpica non creino nessun disagio al nostro turista è una sorta di prova generale è una sorta di prova generale ma stiamo guardando direi che noi dobbiamo guardare sicuramente le olimpiadi ma soprattutto guardare anche la post-olimpiadi che sarà il momento in cui veramente dovremo cominciare a trarre i risultati di questi importanti impegni che tutti quanti a partire dall'amministrazione comunale gli altri enti provincia, regione e governo stanno facendo sul nostro territorio e quindi essere pronti per accogliere quello che speriamo essere un numero molto importante di turisti sia in versione invernale che in versione stima sentirei un'ultima domanda abbiamo soltanto qualche minuto prima dicevi ristrutturazione del rifugio Valoria è un luogo chiaramente iconico è a mio modo e non soltanto forse il mio anche col suo fascino un po' retro che riporta indietro nel tempo la ristrutturazione sarà sostanziale e sostanziale cambierà completamente il rifugio Valoria oppure nelle vostre intenzioni rimarrà un po' con il fascino dell'ambiente alpino tipico delle nostre montagne drometiche i disegni i progetti che stiamo presentando col nostro architetto all'amministrazione per le varie autorizzazioni che attualmente ancora non le abbiamo in mano prevedono comunque un mantenimento dello stile montano dello stile Valoria adesso usiamo questo termine che quindi non verrà stravolto niente la forma la struttura rimarrà quella con volumi diversi e con un'impostazione diversa quello che ci teniamo a fare è che avere un rifugio collegato a un impianto che parte dal centro di Cortina e che in pochi minuti ti porta ai 2200 metri del Valoria quindi dal centro alla cima con una vista mozzafiato con una vista proprio di Cortina da sopra molto importante pensiamo a un prodotto che sia a servizio del territorio proprio per gli spazi che offre e quindi per gli albergatori e per tutte le persone che vogliono o le realtà che vogliono venire in su a passare delle ore delle giornate sul nostro territorio ultimissima domanda veloce chiusura stagione primo maggio credo solito ormai è consolidata no sarà il 4 maggio ah 4 maggio perché c'è un weekend lungo perché c'è un weekend lungo ok apertura invece obiettivo per questa stagione obiettivo 30 novembre 30 novembre 30 novembre 4 maggio allora Renzo Minella è stato un grande piacere buon lavoro a te a tutti e tutto lo staff di Fallo da Cristallo e grazie per aver accettato il nostro invito grazie Claudio grazie a te le belluni e a voi tutti grazie per la gentile visione e l'appuntamento la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.